Ben trovati ancora una volta dall'Oncologico di Bari, l'Istituto Tumori Giovanni Paolo II, con l'avvocato Ilaria Gadaleta per seguire questa vicenda sulla sperimentazione contro il tumore al pancreas che tanta polemica ha generato. Siccome l'avvocato Gadaleta è una che scrive e scrive costantemente ha chiesto formalmente una volta per tutti all'AIFA di rispondere rispetto all'autorizzazione intanto sulla sperimentazione. L'AIFA che cosa ha risposto? L'AIFA ha risposto due cose fondamentali. La prima che ci ha lasciato scioccati è cioè che all'interno del proprio osservatorio per le sperimentazioni cliniche l'IRCS, l'Istituto Oncologico, non è censito, cioè loro non lo conoscono. Mi faccia capire, l'Istituto IRCS che è di ricerca a carattere scientifico di Bari non è censito dall'osservatorio per la sperimentazione clinica dell'AIFA? Assolutamente, che è il primo step necessario per presentare qualunque attività sperimentale che necessita dell'autorizzazione dall'Agenzia Italiana del Farmaco. E questo è già qualcosa che ci fa riflettere anche perché vorremmo capire dalla direzione generale dell'oncologico se effettivamente essendo un istituto di ricerca, un istituto a carattere scientifico, se ha voglia di scriversi in generale, dipendentemente da questa sperimentazione, all'osservatorio delle sperimentazioni cliniche dell'AIFA per fare in modo che si trovi uno sbocco scientifico di sperimentazione alle varie cure. Questo già ci lascia un po' interdetti. Qual è la seconda risposta? La seconda risposta, che è stata necessaria, anche se per noi era tutto abbastanza chiaro, è stata necessaria, dicevo, perché l'oncologico continuava a dire che i dottori Gadaleta e Ranieri e la loro unità operativa potevano fare tutto da soli davanti all'AIFA. Non è così, pare di capire che non è così. Non è così. L'AIFA risponde con PEC in maniera espressa, che intanto è necessaria appunto l'iscrizione a questo osservatorio delle sperimentazioni cliniche, in difetto della quale non si può fare nulla, non si può presentare nulla, è che questa iscrizione spetta esclusivamente all'oncologico e, lo dice espressamente, in particolare al direttore generale. E qui noi chiediamo al direttore generale delle donne qual è la posizione in merito a questa situazione, anche perché adesso, in merito alle beghe amministrative, giudiziari, vi abbiamo raccontato tutto, ma noi abbiamo avuto anche tante segnalazioni da parte di chi intanto aveva iniziato la sperimentazione contro il tumore al pancreas, ma in generale da chi confida nella ricerca scientifica di far riprendere questa sperimentazione, che intanto resta bloccata, nonostante le belle notizie che erano arrivate. Esattamente, nonostante le belle notizie, ad oggi noi siamo bloccati e fermi. Non è possibile neanche procedere allo step successivo, cioè alla visione della documentazione all'AIFA, proprio perché l'oncologico non provvede ad iscriversi, ad censirsi all'interno di questo osservatorio. Il che poi, tra l'altro, perdonami Antonio, ma dice anche un altro particolare, se ti ricordi c'è stata tutta una polemica sulla famosa sanzione dell'AIFA. I 166 mila euro, chi li deve pagare? Li paga l'oncologico, li paga Gadalete Ranieri, chi li deve pagare? Esatto. Ora, l'AIFA, dicendo questo, cioè dicendo che non si può procedere senza censirsi nell'osservatorio, che è il primo step necessario, dice una cosa importante, che Gadaleta, Ranieri e l'unità operativa non sono mai stati né i promotori né i responsabili della famosa multa, perché se il direttore generale o l'oncologico o comunque tutti gli uffici amministrativi preposti si fossero adoperati per iscriversi nel sito dell'osservatorio delle sperimentazioni cliniche non si è arrivata la multa. Assolutamente no. Ma la multa è stata pagata o no? Sì, sì. E chi l'ha pagata? L'oncologico. Che è un po' una missione di... no? Non lo sappiamo. Ma poi si è rivalsa nei confronti dei medici? No, assolutamente. Ma adesso vorrei proprio vedere se, insomma, dopo questa dichiarazione dell'AIFA gli palena... Ma nel frattempo l'oncologico ha spiegato, per esempio, se nel frattempo o in passato ha avviato sperimentazioni e quindi le ha fatte abusivamente, di fatto? Cioè, cosa dice? Allora, l'oncologico sostiene formalmente che tutto il resto dei progetti che ha portato avanti o non li ha portati come capofila, quindi come soggetto, diciamo, marginale... Quindi, marginalità anche rispetto al valore di questo istituto. Assolutamente. Peccato perché... Oppure, che non erano studi sperimentali perché non si usavano i farmaci, ma erano studi cosiddetti osservazionali, cioè di osservazione delle patologie. Peccato che nelle delibere loro utilizzino il termine sperimentale. E non è che questa rientra nella nostra rubrica ormai storica, Tino, che la mano sinistra non sa quello che fa la mano destra. Non lo sappiamo. Noi restiamo a disposizione, magari non qua sotto al caldo perché le temperature cominciano a diventare asfissianti, del direttore generale Alessandro Deledonne, di chiunque abbia voglia di dire qualcosa, possa chiarire, possa alimentare questa discussione, seppure mi permetto di dire che in questo caso la sperimentazione, la ripresa di questa sperimentazione, che aveva dato delle speranze a tanta gente sul tumore, uno dei tumori più gravi, più aggressivi che esista, quello al pancreas, possa riprendere. Perché prima di tutto ci deve essere l'interesse dei cittadini, in questo caso di pazienti deboli. Grazie a tutti.